Mi chiamo Roberto Mircoli, sono l'amministratore delegato di Eco4Cloud, sono particolarmente orgoglioso di ricevere questo Good Energy Award. Il tema ispiratore di questo award è proprio quello che l'innovazione, le idee innovative vincono e vincono sempre. Ecco nel caso di Eco4Cloud devo dire che le idee non solo vincono ma stra vincono, questo infatti è un ulteriore riconoscimento nel palmarès di premi internazionali che Eco4Cloud nell'arco di solo pochi mesi di vita è riuscita a collezionare e quindi è un'ulteriore dimostrazione di quanto sia importante l'area su cui abbiamo sviluppato innovazione. L'ambito è quello della ottimizzazione dei consumi energetici dei data center, un ambito di information technology che sta diventando impellentemente rilevante per l'adozione dell'informatica a livello planetario. Pensate soltanto al cloud e a tutte le applicazioni in mobilità che ciascuno di noi tutti i giorni utilizza, oltre che tutti gli ambiti applicativi di tipo aziendale. Ebbene Eco4Cloud eroga efficienze energetiche che variano tra il 30 e il 60% di queste immense infrastrutture informatiche che vivono e crescono sul pianeta. Quindi questo riconoscimento è un'ulteriore testimonianza di quanto questo tema sia rilevante e su cui ci saranno ulteriori sviluppi nel prossimo futuro.